Io l'ho visto da là e lui era qua di spalle. L'ho affrontato da là davanti e praticamente con la forbice ha detto ti spregio, ti spregio. Sono stati attimi di terrore nel vivaio Varroto di Mogliano Veneto. Tre malfattori sono entrati nell'SR con la scusa di acquistare delle piante. Mentre due di loro distraevano un commesso, l'altro tentava di aprire il registratore di cassa con una forbice. In quel frangente lo scassinatore è stato però sorpreso dal titolare. Lui si è rivolto verso di me praticamente con una forbice minacciandomi. Mi ha affrontato con la forbice e che io ho reagito in poche parole. Ho tirato un calcio con il ginocchio e la mano e sono riuscito a disarmarlo in definitiva. Lui è scappato uscendo dall'altra porta dell'ufficio dove c'era un altro compice che lo attendeva e in due mi hanno affrontato dall'altra parte della strada scaramentandomi per terra e poi li ho corso dietro e insomma sono scappati via a piedi lasciando la loro vettura fuori in strada. Le immediate ricerche dei militari dell'arma appena giunti sul posto hanno consentito di rinvenire nelle vicinanze del vivaio l'autovettura che i malviventi avevano abbandonato nella fretta di fuggire a piedi. Da lì gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità degli autori che adesso sono stati segnalati alla procura della Repubblica. Si tratta di tre nomadi sinti di 35 e 36 anni che insieme ad un 21enne, tutti residenti in provincia di Venezia e con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati a piede libero per tentata rapina. Bisognerebbe che ci fossero delle pene un po' più severe che venissero applicate.